correva l'anno 1972 per la prima volta un presidente degli stati uniti richard nixon si reca in visita ufficiale in cina vittorio de sicca vince il suo quarto oscar con il film il giardino dei finzi continui pierpaolo pausolini vince un orso d'oro per i racconti di canterbury nel frattempo in america gary gaiax era impegnato a play testare quella che sarebbe diventata la prima edizione commerciale di un gioco di ruolo dungeons and dragon per play testare aveva ovviamente bisogno di un'ambientazione e di un gruppo di gioco per il gruppo di gioco si risolse a chiamare amici e parenti e si tra i play tester originali e primi giocatori in assoluto i dnd ci sono i figli di gai gax per l'ambientazione invece mise assieme un mischione di cose che avevano già usato con anderson durante la fase di sviluppo per creare un minimo di mondo di gioco coerente da far esplorare i giocatori quello che ne venne fuori fu ovviamente il castello di gray oak ma questa è una storia molto interessante ma anche molto lunga e ne abbiamo già parlato in un altro video quindi vi rimando a quello ovviamente per fare un play test c'è bisogno di fare molte run molte ripetizioni della partita per vedere cosa funziona cosa non funziona e testare anche le correzioni ma non poteva farle sempre sulla stessa mappa anche perché sennò i giocatori avrebbero semplicemente imparato a memoria il percorso e quello che dovevano fare e il play test avrebbe perso di significato perché sarebbe stato barato dall'inizio si risolse quindi a allargare sempre di più la zona delle catacombe sotto il castello inserendo sempre nuove aree dove sperimentare nuove cose e dove fare i controlli di quello che era già stato sperimentato mandando i giocatori sempre in una zona diversa questo portò rapidamente le catacombe sotto greyhawk a diventare molto più grosse e imponenti del castello di greyhawk stesso questo dungeon che si ingrandiva sempre di più è l'idea seminale di quello che è il mega dungeon che è la storia che andremo a raccontare in questa lezione di storia l'originale castello di greyhawk non può essere definito un mega dungeon perché manca praticamente di tutti gli elementi hanno poi caratterizzato il mega dungeon nelle sue varie evoluzioni ma è l'idea seminale da cui è partito tutto anche all'epoca non si diceva neanche una parola per differenziarlo da un normale dungeon era semplicemente un dungeon veramente molto grosso ma che poi negli anni ha portato ad arrivare a qualcosa di estremamente diverso correva l'anno 1985 michael jackson e la fondazione usa for africa registrano il singolo we are the world brano scritto allo stesso jackson insieme a lionel richie in giappone il disegnatore yao miyazaki insieme a altri artisti del sollevante fonda quello che diventerà lo studio ghibli nel frattempo anche le edizioni dungeons and dragons erano succedute il paradigmi di gioco erano cambiati il party di tombaroli itineranti interessati a puramente a raffare i tesori della prima edizione di dnd pian piano aveva lasciato il posto a il gruppo di eroi buoni che stanno compiendo nobili imprese che è più simile a quella che poi la mentalità in realtà tipica degli anni 90 ovviamente anche il mega dungeon stava pian piano cambiando per adottarsi il nuovo paradigma di gioco già dall'inizio degli anni 80 le avventure avevano cominciato a farsi più complesse e a essere organizzate in saghe che le collegassero tra di loro e anche le storie che venivano raccontate all'interno cominciavano avere una struttura formale cominciavano essere delle vere e proprie storie preparate e non delle eventi che si susseguono in base alla casualità della partita questo comincio a influenzare anche il mega dungeon cominciarono a emergere le prime trame complesse una delle influenze principali fu un modulo uscito praticamente in quegli anni chiamato la società velata in cui i giocatori all'interno di un ambiente urbano dovevano allearsi con varie fazioni in lotta tra i loro per riuscire a risolvere la quest abbastanza standard per noi all'epoca fu molto rivoluzionario e questo concetto fu rapidamente integrato nei mega dungeon andando a inserire le fazioni del mega dungeon di cui abbiamo parlato nei video dedicati altra cosa queste lunghe saghe collegate portavano spesso i giocatori a spostarsi non solo da un posto all'altro ma da un ambiente all'altro quindi diventò normale per i giocatori iniziare una quest in mezzo al deserto e poi finirla varie sessioni dopo in mezzo a una giungla anche questi elementi furono incorporati in quelli che all'epoca si chiamavano i super dungeon che cominciarono ad avere ambienti diversi al loro interno e questi ambienti erano dominati spesso da fazioni diverse in contrasto tra loro nell'85 tutte queste influenze esterne si cristallizzarono in quello che possiamo definire il mega dungeon manifesto per gli anni 80 il famigerato tempio del male elementale i giocatori non dovevano più semplicemente avventurarsi in un dungeon molto grosso ma l'area del tempio era divisa in sezioni tematiche ognuna legata ai quattro elementi ognuna controllata da una fazione legata a sua volta a quegli elementi con cui i giocatori aveva dovuto avere a che fare combattere e cercare di imbrogliare durante il loro percorso all'interno del tempio ma era anche presente una trama vera e propria sui misteri che riguardavano il tempio con tanto di espedienti narrativi e colpo di scena finale che avrebbe introdotto il terzo atto e la fine della storia del tempio del male elementale che non starò qui a spoiler arvi perché se non lo avete giocato almeno una lettura al modulo del tempio del male elementale dovreste darla perché un'opera seminale del gioco di ruolo mettiamola così però comunque vi piacciono i funghi correva l'anno 1991 scade l'ultimatum delle nazioni unite a saddam hussein per lasciare il territorio del kuwait inizia la prima guerra del golfo il western balla coi lupi diretto prodotto interpretato a kevin cosner vince sette premi oscar la sega introduce per la prima volta al pubblico la sua nuova mascotte sonic di edgehog ovviamente l'evoluzione del gioco di ruolo non si è fermata negli anni 80 anzi man mano che passavano gli anni emergevano sempre nuovi stili e nuove scuole di pensiero e ovviamente anche il mega dungeon ha continuato a evolversi introducendo nuovi elementi già nel 90 ruins of greyhawk cominciava a essere anche se in maniera molto acerba un'opera relativamente simile ai mega dungeon contemporanei ma probabilmente in quel periodo l'opera più significativa è appunto ruins of under mountain diet greenwood uscito appunto nel 91 che introduceva in maniera proprio canonica il fatto che il mega dungeon non solo fosse un enorme ambiente con aree tematiche biomi e popolazioni e fazioni locali ma che fosse un vero e proprio microcosmo chiuso in se stesso e non avesse effettivamente bisogno di un'ambientazione esterna per funzionare in pratica che il mega dungeon era un mondo di gioco di per sé in cui gli avventurieri potevano entrare all'inizio della campagna e non uscirne mai e anche alaster il mago pazzo che è diventato l'archetipo del png delirante che sta dietro le trame più senza senso del mega dungeon le rovine di under mountain però hanno anche un altro aspetto cioè che per quanto siano un mondo di gioco contenuto non sono slegate dalla loro ambientazione madre anzi l'ambientazione originale le rovine di under mountain sono un luogo estremamente famoso all'interno dell'ambientazione di greyhawk perché non le conoscesse comunque l'ambientazione di greyhawk appare all'interno di under mountain e anche molte delle voci e delle leggende sono legate al modo in cui gli abitanti della superficie di greyhawk vedono under mountain e di come la politica della superficie vada a influenzare le fazioni all'interno questa è un'altra cosa tipica dei mega dungeon contemporanei il fatto che sono autosufficienti ma non del tutto slegati dalla loro ambientazione di provenienza anche di questo abbiamo parlato per lungo nel video sugli elementi del mega dungeon non starò a ripetermi qui correva l'anno 2001 viene messa online wikipedia l'enciclopedia libera e viene rilasciata commercialmente la prima versione del vlc media player contemporaneamente dopo una sentenza di una corte degli stati uniti napster viene sospeso da tutte le attività in asghanistan il regime italebani ordina la distruzione delle due antiche statue dei buddha di banyan la bistecca alla fiorentina viene sospesa per nove mesi da un'ordinanza del ministero della salute nell'ambito delle restrizioni legate al morbo e la mucca pazza il mondo del gioco di ruolo intanto aveva subito una nuova rivoluzione avevano cominciato a emergere scuole di pensiero radicalmente diverse da quello che era lo zeitgeist precedente era il periodo che viene definito the new age of roleplay e ovviamente anche il vecchio dnd e i suoi mega dungeon continuavano ad adattarsi alla nuova situazione nel 2000 era uscita la storica terza edizione di dungeon and dragon che in un modo o nell'altro sotto un nome o sotto un altro sarà il regolamento che dominerà il mercato per i successivi 15 se non 20 anni e i nuovi giocatori dnd e le nuove regole dnd avevano bisogno di un nuovo mega dungeon in cui andare a perdersi nel sottosuolo forse non ci avete giocato ma sicuramente avete sentito qualcuno raccontare storie agghiaccianti in merito nel 2001 uscì rapa natuk rapa natuk è probabilmente il primo mega dungeon dell'attuale paradigma quando voi pensate a un mega dungeon quello a cui state pensando è proprio rapa natuk non solo prevede aree diverse con fazioni diverse e parte un ambientazione più grande e integrato nell'ambientazione ma anche una storia che non solo lo lega tematicamente ma lo rende parte integrante al mondo in cui proviene le origini del tempio in realtà se si va a guardare la cosmologia sono vecchie di migliaia di anni ma per quanto riguarda la quest qualche centinaio di anni prima dopo la battaglia di zar in cui seguaci di orcus furono sconfitti e dispersi si andarono a rifugiare in quello che venendo lavorato inglobando altre aree e spandendosi sempre di più divenne il gigantesco complesso sotterraneo di rapa natuk su cui girano leggende ci sono voci locali che gli avventurieri quando stanno per entrare o stanno anche solo esplorando l'area circostante potrebbero sentire png raccontare di cose che vengono all'interno del tempio o dire agli avventurieri informazioni relative al fatto che non devono scendere nel pozzo principalmente non dovete scendere nel pozzo ragazzi oltre a tutti questi elementi rapa natuk ha anche una struttura assolutamente non lineare non c'è una trama definita esistono delle sottotrame che si attivano ma non c'è un percorso all'interno del complesso gli avventurieri possono fondamentalmente scegliere da solo il loro percorso e andare avanti a interagire fino a fine campagna con tutto quello che troveranno all'interno del sotterraneo per quanto sia l'incarnazione del mega dungeon moderno non dovete aspettarvi che sia qualcosa di banale anzi è estremamente ben caratterizzato e in realtà le sue origini si perdono anche nella realtà negli ioni della storia perché la prima incarnazione rapa natuk fu progettata da web il suo designer nel lontano 1977 e si vede che è fortemente influenzato dallo stile horror macabro ad alto tasso di mortalità per i giocatori che era tipico dei moduli ufficiali di quel periodo vi basti solo pensare a the tomb of horror e probabilmente capirete perché rapa natuk non viene considerato solo il mega dungeon per antonomasia ma anche l'esempio perfetto di nega dungeon che è un argomento collegato ma non ne parleremo in questo video ne parleremo in un video apposta tra qualche settimana tra l'altro come il male imperituro che alleggia al suo interno rapa natuk non vuole morire perché ha avuto tutta una serie di successive incarnazioni è uscito per la terza edizione di dnd ma poi è stato addiattato alla prima edizione di pathfinder e attualmente ne esiste un edizione per la quinta edizione quindi in un modo o nell'altro avete la possibilità di recuperare un manuale e studiando i manuali è possibile anche per vedere anche l'evoluzione delle regole e di come vengono applicate al mega dungeon ovviamente però la storia del mega dungeon non finisce con rapa natuk anzi non è il solo ad aver avuto varie incarnazioni nel corso degli anni anche molti altri mega dungeon e anche dungeon normali delle edizioni più vecchie sono stati rivisti e riadattati a edizioni più nuove di dnd e ovviamente vengono prodotti anche nuovi mega dungeon sia ufficiali che sono quelli su cui mi sono basato per questo video anche se in realtà rappresentano una minoranza perché la maggioranza del gioco di ruolo è quello che i master preparano per i loro tavoli privati di cui purtroppo rimane pochissima traccia ma che comunque vanno a generare costantemente nuove idee nuovi paradigmi che poi qualche anno dopo entrano nel discorso mainstream del gioco di ruolo e quindi vengono poi codificati appunto in una pubblicazione ufficiale di cui è possibile tracciare una data storica e quindi sicuro che nei prossimi anni non solo vedremo altri riadattamenti ma probabilmente vedremo cambiare ulteriormente il paradigma con l'introduzione di nuove logiche o di nuove idee nell'ultimo periodo uno dei lavori più interessanti è barromades che è stato concepito per il retro gaming è uno di quei moduli per l'osr che porta una commistione tra quello che era l'old school e in realtà è il gioco di ruolo contemporaneo però non staranno a parlarne qui questo video è già durato troppo di barromades però vi lascio qui sotto un link a un articolo di autarchica gdr scritto da manuel che tra l'altro è l'uomo che dovete ringraziare per buona parte del materiale di questo video perché neanche il mio archivio storico copre fino alle origini del gioco di ruolo quindi mi sono dovuto appoggiare a lui che è un esperto per ricordare quali erano i mega dungeon delle origini adesso però il video lo chiudo qua non voglio iniziare male l'anno sforando i tempi vi faccio auguri di buone feste e vi ricordo di scrivere nella sezione dei commenti qui sotto quali sono state le vostre esperienze col mega dungeon nel corso degli anni se ne avete mai giocato uno di quelli che ho citato se avete giocato altro se c'è qualche altro titolo che magari ho saltato perché effettivamente non è stato facile fare le ricerche per questo video comunque scrivete tutto nei commenti come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo ho potuto crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di discord e al gruppo i telegram dove metto io le notifiche manualmente io sono il master cliccare e noi ci vediamo al prossimo video